Chat GPT. Cosa può e che cosa non può fare? Chat GPT è uno strumento estremamente potente. Si tratta di un sistema conversazionale e un'intelligenza artificiale che è stata allenata su oltre 300 miliardi di parole. Può tradurre in 95 lingue, può effettuare dei calcoli, può realizzare un soggetto per un film, una poesia e chi più ne ha più ne metta. E allora cosa non può fare? Chiaramente questo strumento è stato preso di mira dagli studenti per fare i compiti a casa. Eh furbetti! In questo caso bisogna però dare un alert perché è comunque un sistema che pesca le informazioni dalla rete per cui se le fonti contengono degli errori, delle notizie false automaticamente l'output sarà compromesso. Quindi bisogna sempre verificare. Se fino a ieri ero l'ultimo della classe e oggi grazie a Chat GPT sono il primo della classe e i professori potrebbero anche mangiarsi la foglia.